Un caro saluto a tutti, oggi visiteremo Portofino in Liguria. Vi mostreremo le immagini del nostro viaggio nel rinomato borgo della riviera Ligure. Portofino è un borgo di pescatori di circa 400 abitanti sulla riviera Ligure a suddeste di Genova. Case color pastello, boutique esclusive e ristoranti con specialità di pesce si affacciano sulla piazzetta Ciottolata che domina il porto dove sono attraccati i megaiot. Un sentiero collega la piazzetta alla chiesa di San Giorgio e al castello Brown, fortezza cinquecentesca con annesso musee all'interno della quale sono allestite mostre d'arte. Il castello regala panorame e viste mozzafiato della cittadina e del Mar Ligure. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.